eccoci di nuovo nel bosco bentornati sul canale oggi voglio fare una follia voglio cominciare con l'all metal non voglio discriminare nulla adesso andiamo a bilanciare il nostro simplex e siamo pronti per partire suono inconfondibile il leggendario cucchiaio allora qua pazzesco pazzesco quanti cucchiai che ho trovato quanti dobbiamo scavare tutto scaviamo tutto e guarda qua questo è molto massiccio a che bello allora primo momento direi fusione in piombo ma non lo è deve essere un pezzo di qualche attrezzatura molto bello non è nemmeno un chiodo sembrerebbe un chiodo ma non lo è trovato un bottone poverissimo all'inizio non capivo che cosa fosse ma c'è l'asola qua decisamente vecchio 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 la buca è lei poca fatica queste tre nella stessa buca tre cartucce credo tutte per cinghiali non è affatto rispettoso per l'ambiente credo che qualcuno debba farsi un esame di coscienza e dicevamo che il rischio di scavare tutto qual è che il 95 per cento delle volte purtroppo come in questo caso no potremmo andare a scavare questo 4 che ferro sicuro però ci sono delle monete che incredibilmente suonano ferraglia e no però è no questo è buono questo altro che ferraglia attenzione attenzione ok qua qua andiamo a vedere attenzione attenzione in diretta dopo aver pulito il bosco in lungo e largo credo di essermelo meritato ho tirato su tanta di quella schifezza usando l'all metal che è impressionante io direi che questa è una bella votiva intera acqua intera interissima ok ok poi vediamo che cos'è se si riconosce comunque la votiva o finalmente finalmente questa mi ha fatto davvero impazzire era introvabile davvero piccola credo sia una moneta a questo punto dico credo perché è una forma probabilmente perché consumata e si sfalda un po' però è pesante pesante comunque abbiamo trovato una moneta dai io penso sia proprio una moneta allora purtroppo l'esperimento o il metal non ha funzionato scavato circa 20 target sperando tra la ferraglia di trovare qualcosa questo è un disco di ferro e direi che assomiglia molto al famoso puck dell'hokey un po più spesso un po più pesante che bestia niente cambiamo programma al metal mettiamo metto 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 field perché tanto inutile almeno quantomeno 20 target volevo scavare e 20 target sono andati male chiodi pezzi di ferro strani questo ci siamo finalmente ci siamo ci siamo eccola qua eccola wow dopo tanto sforzo questa qui almeno sembra una moneta un po' un po' intera e anche grandina allora vediamo un po' potrebbero essere molto probabilmente 10 se vittorio emanuele ci siamo dai avanti finalmente ho abbandonato l'all metal insomma ovviamente ho perso poco meno tempo e cominciano a uscire le monete la giornata veramente meravigliosa ecco qua c'è un altro ferraglia ma come detto non la raccogliamo più attenzione questo è un suono decisamente migliore ok tirato fuori dai dai in diretta in diretta sono ottimista poi vabbè come al solito sarà niente eccola qua eccola qua vediamo un po' dai 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 una volta in diretta no vabbè ma che è ma vabbè ma che è ma può essere un anello davvero o una rondella niente dobbiamo vedere a casa come al solito pensa te beh quantomeno da analizzare insomma non volevo non volevo neanche scavarlo perché arrivo da lì che ho trovato un paio di tappi questo suonava un'altra volta alluminio infatti sente il suono molto e invece no e invece no abbiamo la votiva seconda votiva finalmente cominciano uscire un po' di votive finalmente allora questa deve essere si vede poco adesso essere una testa c'è rigonfiamento ma penso che appunto sia il disegno classica madonna col bambino probabile probabile però come al solito meglio procedere con calma puliamo la casa non facciamo cavolate magari si riesce a salvare qualcosa qui un po' mancicchiata dai però ottimo finalmente dai stavo per non scavarla sarebbe stato un peccato guardate due vetri qua interi un altro qua colore anche questo è intero un altro qua un altro lì bravi complimenti ma è questo invece allora mi dà sempre un suono alluminio dunque non dovrebbe essere nulla di clamoroso ma però ha un buco in mezzo che è? oh mi sorprende sempre il bosco incredibile io non riesco mai a capire credi ma cos'è? ma cos'è adesso questo? ah dai ci sono delle scritte perfetto ci sono delle scritte ditemi nei commenti se qualcuno ha capito poi vabbè adesso la portiamo a casa e la puliamo e vediamo non riusciamo a capire ma ma io vedo dura a capire una roba del genere qua ci sono delle scritte e allora niente la puliamo a casa vi invito anche a iscrivervi al canale se vi piace questo ritrovamento assurdo ma dai ma mai avrei pensato non c'è dubbio anche questo è molto buono molto buono dai che questa ci sta dai dai sono fiducioso vediamo un po' dove è? ok individuato proprio qua proprio qua la terra si sposta facile questa è stata una caccia tesoro ma guardate questa cosa dico moneta cioè guardate ma esistono monete così piccole? qualcuno ha idea? possibile? allora nei commenti nei commenti sotto un video la simpaticissima Giulia che salutò mi ha detto eh ma una volta sotto gli alberi nascondevano delle cose cioè insomma se uno voleva nascondere qualcosa è più albero di questo dunque Giulia è dedicato a te questo scavo andiamo a vedere vediamo cosa troviamo dai anche se il suono sembra sembra lunghetto potrebbe essere che abbiamo nascosto qualche attrezzo da lavoro vediamo senza distruggere le radici andiamo giù delicati no le radici qua non ce n'è per fortuna vediamo un po' già trovato attenzione attenzione ma è piccolo pensavo pensavo non ci credo non ci credo non ci credo la Giulia aveva ragione senza altro la moneta aspetta che prendo il macro allora ripeto nei commenti Giulia mi aveva detto cerca vicino agli alberi io ho detto ovviamente ho detto sì bisogna vedere il metal detector che cosa davano incredibile ma incredibile aveva ragione aveva ragione grande Giulia questa è proprio dedicata a te allora non so che cosa sia dobbiamo pulirla a casa molto probabile un altro Vittorio Emanuele ok non è il tesoro dei pirati ma è una moneta credo sia la quarta di giornata se anche quella piccolina conferma di essere una moneta io direi non male quattro monete due votive un'altra che sembra boh qualcosa di strano forse un anello un bottone insomma se non avessi perso tempo oggi scavando decidendo di scavare anche la ferraglia che su 20-25 target è stato tutta spazzatura vabbè ma andiamo avanti abbiamo forse ancora un po' di tempo no ma io non ci credo stiamo andando via ho detto ho preso trovato la moneta sotto l'albero e questa suona ancora oh madonna ma qua te ne ha messi possibile che sia un'altra moneta ragazzi scavo fermo la telecamera perché quasi scarica pazzesco 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 ce n'è un'altra davvero pazzesco pazzesco incredibile le avevano proprio nascoste sì sarà un Vittorio Emanuele penso questa è bella grossa penso un 10 centesimi Vittorio Emanuele no vabbè no vabbè incredibile dai vabbè ma poi il senso di nascondere delle monete di valore direi anche per l'epoca veramente scarso però pazzesco 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 meglio controllare tutto l'albero che se vabbè due monete comunque no non ci credo non ci credo dall'altra parte dell'albero no ma e suono sempre uguale no vabbè non lo va dai vai dai vai vai scaviamo meno male che ho portato il telefono perché allora ci siamo ci siamo ci siamo andiamo a vedere se l'albero della cucca eccolo qua vediamo un po' con una mano sola con no credo che ah no questa è terra allora scusate sono con una mano non voglio ma che poi anche se cade eccola eccola qua eccola qua terza moneta sotto quest'albero incredibile 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 oh vabbè incredibile sì sempre un vittorio vabbè ovviamente l'epoca era quella dai fantastico fantastico mi sa che questo video lo chiamerò proprio così l'albero della cuccagna eccolo qua eccolo qua magari col sole al tramonto bellissimo fantastico vediamo se ce n'è ancora ma non credo però ci sono altri alberi questo punto boh guardiamo ok mi raccomando non abbandonate adesso il video perché adesso andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato finora batteria finita acqua finita giornata incredibile andiamo a vedere cosa abbiamo trovato oggi dai e allora eccoci qui con i nostri ritrovamenti non siamo stati molto fortunati con la conservazione però qui abbiamo 10 centesimi Vittorio Emanuele periodo 1863 come anche queste tre qua che sono invece 5 centesimi però vedete le condizioni purtroppo monetina qui irrilevante disintegrata il bottone che potrebbe essere anche di una giubba militare perché no sembra che ci sia qualche scritta dietro ma non ho idea le votive le votive questa inclassificabile purtroppo appartenente credo intorno al 1800 questa questa quanto meno incrostatissima difficilissima da pulire nostra signora e poi c'è un sopra se qualcuno l'ha identificata me lo dica nei commenti e questi qui che pensavamo fossero anelli o quanto meno invece sono delle rondelle e purtroppo niente la nostra fusione credo sia una fusione a questo punto qualcosa del genere forse no e questo qui ho bisogno del vostro aiuto per capire che cosa possa essere industrie sembra che ci sia anche una scritta di Torino però potrebbe appartenere a un bossolo ma antico antichissimo chi lo sa ok io vi ringrazio spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale per prossimi contenuti e ci vediamo presto